Salve amici e amiche, benvenuti sul canale, facciamo anche un breve video di commento sulla puntata di quattro grado di ieri per quanto riguarda il caso Liliana Resinovic. Siamo a momenti, in attesa a momenti della decisione del GIP, essendo parlare, sa, titoli che dicono il giorno del giudizio, finalmente l'ora, l'ora della verità si sta avvicinando, come se questo GIP avesse un'ora della verità, come se fosse l'oracolo della verità. Il GIP sostanzialmente, lo vedo quasi come un notaio in questo frangente, cioè egli deve valutare se tutto ciò che è scritto dal PM che chiede l'ascriviazione per suicidio è contraddetto in modo concreto da parte di coloro che hanno fatto, insomma, opposizione. Quindi non è che è l'ora delle verità. Secondo me, per come si dice, per come sta evolvendo la situazione, certamente si potrebbe andare al massimo verso una piccola proroga delle indagini, ma nel senso tecnico, cioè di fare ulteriori accertamenti per vedere se escono fuori impronte o DNA di qualcosa sul giubbino, su quegli elementi che non sono stati analizzati veramente. ovviamente. Però resta l'equivoco di base. Vedete, io feci una volta un video su questo caso titolandoli Il Gioco dell'Oca, cioè praticamente un gioco per cui si torna sempre al punto di partenza e si riparte buttando i dati, no? E sta avvenendo un po' questo perché alla fin infine, anche nel momento in cui si fanno ulteriori approfondimenti, dai quali capirete bene a distanza di tempo cosa può uscire, praticamente nulla, e allora qual è, insomma, la proposta, qual è la richiesta di questi avvocati, l'avvocato gentile che ha fatto, diciamo, tante pagine di ricorsi, è quella di andare ad approfondire perché? Perché si dice non è possibile che la Liliana Resinovic si togliesse la vita visto che, visto che era la vigilia di voler cambiare vita, era la vigilia di andare a vivere la Serpina. E' qua l'equivoco di fondo. Non lo volete capire, non dico voi in generale, non lo vogliono capire e si è al gioco dell'Oca. Quindi andiamo al paradosso che uno Serpin va in questura a denunciare Sebastiano perché in trasmissione lì a questo grado l'ha chiamato Matt così, ma voglio dire, quando quando egli stesso ha messo in giro come pollicino tanti indizi e ha detto di tutto e di più contro una persona che non si può più difendere come Liliana Resinovic, attribuendole la figura diamante, attribuendole dei compostamenti incredibili come quelli dei baci, le carezze, le sedute sul ginocchio, le saune scambisti, le spiagge nudisti, la jacuzzi e perfino adesso gli incontri nei nidi d'amore. I nidi d'amore. Mi meraviglio di Nuzzi, il conduttore, che dà questo formato di quarto grado, un formato gossip perché li chiami i nidi d'amore. Chiamare i nidi d'amore è un'offesa, è un'offesa per l'intelligenza di chi ascolta, ma anche per la dignità della povera Liliana. Possibile mai che queste cantinole, come le ha definite lo stesso Serpini, di pochi metri quadrati, senza utenze, senza luce, umide, di pochi metri quadrati, quindi immaginate qualche cantinolo e una soffitta, in quelle condizioni, magari polverose, eccetera, sono chiamati nidi d'amore. Ma nidi d'amore di cosa? Cioè, si dice, no ma ci incontravamo lì qualche volta, ma fare cosa? Cioè, a parte che la componente proprio passionale, sessuale, non poteva esserci in nessun senso per le ragioni che ci siamo detti, ma nidi d'amore di cosa? Cioè, con una casa teoricamente a disposizione, con le jacuzzi, ci si doveva vedere, lontano da occhi indiscreti, dove? Nei cunicoli, nelle catacombe, in questi posti, insomma, non è possibile, come pure un servizio filmato diceva, eh ma forse poteva essere nascosta lì, voi immaginate una Liliana che va nascosta nelle cantinole, per tre settimane in una cantinola, ma nemmeno nei film più stupidi, nelle cose più incredibili si può soltanto pensare una cosa del genere. Quindi, vedete, ieri ha detto molto bene il professor Picozzi, che dice che secondo lui potrebbe essere che Serpin ha dei sintomi, questo l'ha detto lui, ha dei sintomi di pseudologia fantastica. Ecco, pseudologia fantastica. Quindi, praticamente, questo è un tratto, diciamo, psicopatico, in cui, è un tratto psicopatico in cui, praticamente, la persona si immagina una realtà che è virtuale e cerca di dare elementi per rendere questa realtà virtuale una realtà fattuale. Quindi, praticamente, qualcosa per cui si proiettano, ecco, le proprie fantasie, volendole fare diventare realtà. Quindi, questa è un'analisi fatta dal professor Picozzi che io trovo azzeccatissima, perché qua, sicuramente, credo, ci possa essere l'ipotesi che delle fantasie, delle immaginazioni, vengono fatte realtà attraverso delle proiezioni di fantasia, così ridicolo, così fantasiose, che nemmeno un bambino di scuola elementare può mai credere. Ma già la circostanza è che tutti questi episodi sono stati, diciamo, rivelati nel corso di un anno e mezzo, volta per volta, sempre fatterelli nuovi, ma dovrebbe indurre chi ha delle responsabilità in tal senso, a livello di indagini, certamente a prendere in considerazione l'ipotesi che possa essere tutto, tutto inventato, tutto inventato partendo da dei presupposti, come dire, dei piccoli presupposti di verità e poi tutta fantasia. Il presupposto di verità che io ho sempre considerato è quello di una costanza di contatti telefonici che presupponevano un altro tipo di vicinanza fra Liliana e lui, un altro tipo di vicinanza, di carattere, di interessi, di qualcosa che riguardava l'aspetto economico. Questa è l'idea che io mi sono fatto. Su questo insiste anche Sebastiano, per la verità, che insiste sempre su quella telefonata delle 8 e 22, che in realtà è qualcosa di importante, perché invece di andare appresso alla favoletta di dire che andava alla wind e faceva un po' più tardi, in quella telefonata probabilmente si parla di dove lei stava andando e forse non era nemmeno la prima volta che faceva quel tipo di uscite e quindi ciò era perfettamente a conoscenza dello serpino. Ecco perché poi, secondo me, se tutto quell'allarme incredibile e generale che lui fa tutti quei comportamenti strani. Però, a un certo punto, cosa volete che vi dica se si credono invece alle favole? Non si è voluto seguire quel filone, non si è voluto seguire in alcun modo e secondo me questo è stato un gravissimo esore. Purtroppo sembrano che non se ne vogliono rendere conto nemmeno coloro che l'hanno frequentata. Io ieri ho sentito un po' anche alcune dichiarazioni, pure l'amico Pino dichiara ma se lei era in procinto di cambiare vita non si sarebbe mai andata a suicidare. Ecco il punto. Se era in procinto di cambiare vita non si sarebbe andata a suicidare. Ma è questo proprio il punto. Non c'era nessuna vita da cambiare, ma io non mi stancherò di ripeterlo fino allo sfinimento. Voi pensate, una donna benestante, ben curata, ben vestita, con tutte le comodità, non si faceva mancare niente, tutta roba di primissima qualità, con tante spese da pagare, facevano viaggi, avevano moto, macchine, bici elettriche, macchine fotografiche di altissimo livello, aiuti che davano a destra a manca, lasciamo perdere. Che cosa avrebbe fatto? Avrebbe lasciato tutto ciò all'improvviso per andare da quest'uomo anziano e magari star seduto in queste cantinone, in questi scantinati umidi, senza utenze di pochi metri quadrati, a bere lo spritz, ma voglio dire con quali elementi lo fai, a bere il caffè, con quali elementi lo fai, così nella soffitta polverosa, ma voi immaginate che ci vuole una faccia d'ossa non solo a dire queste cose, ma a pensare che le persone possono credere e meno male che nell'opinione pubblica qualcosa sta cambiando in tal senso, cioè le frottole sono talmente tanti e tali, a mio avviso, talmente tanti e tali e clamorose che anche insomma alla gente sta venendo il dubbio che insomma ci sia qualcosa di strano. E ieri il professor Picozzi per arrivare a dire che l'osterpin potrebbe avere questi sintomi psicopatici da pseudologia fantastica e è grave, è grave che lui abbia fatto queste ipotesi, cioè un personaggio che proietta le sue fantasie per farle diventare realtà dicendo cose che non esistono, sono tutte fantasie. Questa è l'ipotesi più convincente e questo tipo di ipotesi ha fatto fermare le indagini, ha bloccato tutto, cioè lui si è inserito in un contesto familiare, amicale, di contrarietà contro Sebastiano, ha approfittato di questa debolezza, diciamo così, per cui è stato accorto come il personaggio che dice la verità perché ha fatto comodo così per andare contro a Sebastiano che, vi ripeto, non è uno stingo di santo, è uno che insomma non si sbottona, che sa insomma qualcosa, secondo me lui aveva capito, sapeva qualcosa, però certamente lui ha fatto bene a non andare lì a quella sceneggiata della manifestazione sotto palazzo di giustizia perché insomma andavano tutti contro di lui, tutti contro di lui, perché? Perché ma lui non avrebbe mai potuto fare nulla contro contro la moglie, contro Liliana che per lui era la compagna di vita con la quale condivideva tutto, lo faceva stare bene, condivideva la vita, le esperienze di tutti i tipi, invece no, no, e quindi per andare contro questa antipatia di base hanno accolto lo Serpine che c'entra in questa storia come i cavoli a merenda, in questa storia, ripeto, la mia ipotesi è che lui c'entra e c'entra molto perché aveva una, penso io, una comunanza di interessi di altro tipo, di altro genere, diciamo così, con Liliana, ma mai parlare d'amore, mai, 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 assurdo, veramente qualcosa di clamorosamente assurdo, quindi è inutile che si aspetti l'ora della verità del GIP, il GIP nel momento in cui dovesse passare la palla al PM di nuovo, il PM dovrebbe prendere atto a magari delle ultime evoluzioni incredibili per aprire al nuovo, per fare quello che io dissi ieri, delle indagini indirette su queste dazioni in nero, cash, questo denaro liquido, per vedere se si riesce ad aprire un altro filone che porta alla verità. Quindi è da pazzi, da pazzi proprio a credere a queste, a queste, queste credinate del, delle cantinole, delle cose con le chiavi, si arrivava prima, andava lì nella cantinola ad aspettare, veramente è una mancanza di rispetto non solo all'intelligenza della gente, ma alla dignità, che bisogna sempre riconoscere, alla Liliana che ha avuto secondo me solo la debolezza di cadere, come dire, in un giro poco chiaro, un giro diciamo con persone magari poco affidabili che l'hanno implicata in qualcosa di rischioso, non perché lei lo volesse fare, ma a volte nella vita capita che ci si trovi impelagati contro la propria volontà, in un momento anche di difficoltà economica come era il periodo Covid. Io i particolari non li posso sapere, ma credo che questo sia, questo sia la via giusta, non possiamo fare sempre il gioco dell'oca, cioè diciamo, no no, aprite le indagini perché lei stava per cambiare vita, perché lei voleva andare a vivere, insomma, e si parte da capo dal nulla. non esiste niente, non esiste niente, quindi il professor Picozzi secondo me ha azzeccato la diagnosi, non è possibile una cosa del genere, spero quindi che per concludere il GIP possa dare una proroga per gli approfondimenti e che a sua volta il PM prenda atto e apro un filone al limite il GIP che possa anche dare qualche imputazione coatta. Ecco, imputare i principali protagonisti, fare questa imputazione coatta, perché solo così da loro, con interrogatori stringenti, con delle indagini fatte vecchio stile, si può cambiare passo, altrimenti questa storia è destinata veramente poi all'oblio. Grazie amici miei, grazie che mi seguite, condividete il video dappertutto, grazie, un abbraccio, buona giornata, un abbraccio a tutti quanti voi.